e ora fammi fare il tattolo piano che cazzo, che ti dodo la tattolo ma dove c'hai? una colia di orla una colia di orla una colia di orla per non farlo fare qua dove c'hai? dove c'hai? una colia di orla allora vedete lo faccio per tutto piano io ho la tattola ho solo un centri ma te babbo ti riprende? fa di samba ciao babbo l'orenzo lo riprende bene? se sono vecchi mambo babbo prende il bilancio il bilancio no insomma il gole il gole il gole allora cosa è il gole allora cosa è il gole allora la chiesa così il gole ora ora te lo da mamma ora te lo da mamma 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 attenzione e la tutta schicci tutta con l'acqua sarà meglio di no non vuoi bere ora te lo da mamma mamma e te hai fatto il cazzo mamma che fai rubi le spugnette? si aspetta ferma no no ma non calcolarla tu non hai le mani da me altro mettilo dentro l'acqua vai si ora pulisci così tieni vai qui non hai pensato a farci scusando il dito dai dai la parete del frigo 90 ma che minuto hai preso papo? 1,88 un metro di più 1,88 oh madonna ma scusami è questo la tua intelligenza da da ambrare questo secondo te quant'è? allora saranno scala di verde eh no saranno c'è stato rimesso dove vabbè ma scusa queste alte sono 45 45 no soffina non le devi rimettere dentro di là qui sono 120 insieme con questo giollino qui lei sposta le tazze da parte a quell'altra eh va bene e più e più c'è che si fa c'è 8 centimetri che sono qui quindi è 1,88 ho capito ma se riporto per ok